Sono 51 i commercianti premiati da Coffcommercio nell'annuale Assemblea Generale tenutasi martedì 11 giugno. Imprenditori con alle spalle oltre 30 o 40 anni di attività. Per 7 negozianti con oltre 50 anni di carriera è arrivato il riconoscimento più importante, ambasciatori del commercio. Premiate anche le attività associate a Coffcommercio da più di 25 e 30 anni. L'Assemblea è stata anche occasione per votare il bilancio dell'associazione, economicamente positivo, anche se il momento storico è fra i più difficili, fra quelli affrontati dai negozianti, come ha puntualizzato il Presidente uscente Mauro Bambelli, pronto a ricandidarsi alla guida di Coffcommercio. Per Coffcommercio direi che è stato tutto sommato un anno positivo, chiudiamo con un bilancio poco, ma siamo in positivo, quindi alla fine devo dire che dopo tanti anni siamo riusciti ad avere, a portare del fieno in cascina e quindi riusciamo a chiudere in questo modo. Sicuramente sono momenti per il commercio, questo non bisogna nascondersi, dietro a questa situazione sono dei momenti molto difficili, difficili perché quotidianamente ci sono delle attività che chiudono, come vediamo tutti, come vediamo tutti i giorni, ci sono prospettive non rose sicuramente per il futuro e quindi abbiamo questa angoscia dentro di noi, purtroppo è brutto dirlo, ma di quanto riusciremo ad essere ancora competitivi nel mondo del commercio. Che cosa chiedete o che cosa proponete invece all'amministrazione comunale? All'amministrazione comunale chiediamo che comunque si renda conto, che ci segua, che ci venga, che comunque sia favorevole alle nostre iniziative, che sia comunque per il nostro futuro, che ci accompagni in questo, che ci ascolti. Noi siamo sul territorio con tutti i nostri commercianti, con tutte le nostre piccole e grandi e medie aziende, siamo sul territorio e quindi abbiamo la mappatura di quello che ci succede attorno. L'amministrazione ci ascolta, vogliamo che continui in questo modo, vogliamo che comunque chiediamo che comunque siano sempre presenti e che di fronte a determinate situazioni che si stanno verificando dalla sicurezza anche all'assistenza di tante cose, ci sia comunque un rispetto del nostro lavoro che quotidianamente, appunto, come dicevo, stanno sulla realtà cittadina e anche del forese. Oggi premiate i vostri associati di lunga data, 50, 40 anni, 30 anni di commercio, sono risultati oltremodo valorosi in un periodo come questo. Esattamente, è una cosa che ha sempre, prende negli anni, prende sempre più valore, perché resistere dai 25 fino ai 50 anni, oggi premiamo appunto gli ambassiatori del commercio, 50 anni oltre, dico proprio resistere in questo lavoro, è veramente qualcosa da premiare, da premiare con tutto il cuore, perché comunque la fedeltà associativa, non solo per la fedeltà, quindi oggi premiamo la fedeltà associativa appunto dai 25 ai 30, ai 40, ai 50 anni, ma anche proprio la volontà di stare su questo mercato che è sempre più difficile. E resistere, come dicevo, con questi anni, con questa situazione, resistere per tanti anni, è veramente, come dicevo prima, da premiare. Oggi premiamo anche, per la prima volta in assoluto, premiamo anche i nostri, alcuni dei nostri dipendenti che sono stati al servizio della Confcommercio per almeno 40 anni, sono prossimi alla pensione, li vogliamo salutare proprio un qualcosa che iniziamo da quest'anno ad avere questo premio, questa occasione, perché comunque si meritano anche loro un riconoscimento, prossimi alla pensione, ma comunque sempre attivi e operativi in associazione. È una cosa bellissima questa che organizza Confcommercio tutti gli anni, di ringraziare i suoi associati più fedeli, ma è un ringraziamento che è a turma di tutta la comunità, perché dietro a 20, 30, 40, 50 anni di attività c'è lavoro, c'è occupazione, c'è luce nelle vie della nostra città, c'è, diciamo, aver creduto in Ravenna, aver creduto nella nostra città e quindi è un ringraziamento che viene da tutta la comunità, ovviamente anche dal comune. Lei è uno fra i premiati di quest'oggi di Confcommercio, quanti anni? 50 anni. Come si resiste 50 anni a fare questa attività, soprattutto in questi tempi? Con tanta passione sono arrivato a 50 anni. È tutta un'altra cosa, da 50 anni fa è tutta un'altra cosa. Signore, quando ha aperto la sua trattoria pensava che avrebbe continuato a fare questo lavoro per 30 anni? Esattamente, perché non sapevo neanche come gestirmi. E adesso dopo 30 anni cosa pensa? Penso che ho fatto bene. Sono cambiate tante cose, perché la gente è cambiata, magari ha cambiato il sistema di venire al ristorante, tutte queste cose qua, però insomma noi siamo contenti, ecco. È stato facile stare a passo con i tempi oppure no? Beh, sì, se tengo ancora aperto è segno che andiamo bene. E fino a quanto ancora durerà? Ah, questo è fatica di saperlo. Speriamo ancora un po'. Molto. Speriamo un po'. Ancora un po', poi vediamo. No, troppo. Non altri vent'anni. Troppo vent'anni. Troppo vent'anni. Ancora un po'. Grazie a tutti.